Supporto, formazione e lavoro. In tanti mi state chiedendo come si presenta la domanda. La domanda per poter ricevere i 350 euro è facile da presentarsi. Andate sul sito imps.it, fate il login con lo speed o con la carta di identità elettronica. Dopodiché, sopra in alto, c'è una lente di ingrandimento. Scrivete supporto per la formazione e lavoro. Accedi al servizio. A quel punto seguite semplicemente la procedura per andare a inserire la domanda e il gioco è fatto. Da lì in poi dovete semplicemente proseguire poi con la procedura, come verrà indicato, tutto quanto. Ricordatevi che prima di andare a colloquio col centro per l'impiego dovrete iscrivervi a tre agenzie interinari. Io prevedo che quello potrebbe essere il cono di bottiglia, dove ci potrebbero essere delle difficoltà, poiché tantissime persone si riverseranno ai centri per l'impiego e alle agenzie interinali per poter espletare tutte quante le varie fasi dell'iter. Detto questo, se avete delle domande scrivetemi tutto quanto qua nei commenti e non perdete l'occasione di poter ricevere 350 euro al mese individuali con bonifico bancario. Grazie. Grazie.